Ha chiesto di parlare il senatore Renzi ne ha facoltà. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi, i 18 senatori di Italia Viva le augurano buon lavoro e la invitano, signor Presidente, a schierare l'Italia dalla parte dell'europeismo e non del sovranismo nella importante discussione di giovedì e venerdì a Bruxelles. Davanti alla crisi pandemica l'Europa stavolta ha risposto battendo un segno positivo e il nostro Paese è protagonista di questa svolta. La riforma del MES è un piccolo passo in avanti, ma va nella giusta direzione. Tuttavia noi vogliamo prendere l'occasione di questo dibattito, al quale lei più volte ci ha richiamato, per utilizzare parole di verità e di trasparenza, le stesse che ci diciamo negli incontri privati, le stesse che diciamo negli incontri di maggioranza, anche qui in Parlamento. Utilizzare lo stile di quella che il Nuovo Testamento chiamerebbe parresia. Dirsi le cose in faccia, perché servono, ora o mai più. Questo è un momento politico, lo ha ricordato il Presidente del Consiglio, in cui l'Italia ha delle occasioni che non ha mai avuto in passato. Certo i problemi sono enormi, la distribuzione dei vaccini, il rapporto Stato-Regione, i ritardi in tanti momenti importanti della vita del Paese, ma siamo per la prima volta a presiedere il G20, come dice il nome ricapiterà tra vent'anni, e presidiamo il G20 nel momento in cui l'Italia può dettare la linea sul futuro economico post-pandemia. Presiediamo il G20 nel momento in cui gli Stati Uniti tornano al multilateralismo. America is back è il titolo della politica estera di Joe Biden, il Presidente eletto. Abbiamo anche la possibilità di co-presiedere il COP26, lo ricordava il Presidente del Consiglio, vale a dire la straordinaria conferenza sulla transizione energetica, sulla sostenibilità contro il climate change. Come non pensare che finalmente possiamo trasformare l'ambiente da mera questione importantissima, ideale, a occasione di creare posti di lavoro pensando che abbiamo con Eni, Enel, Snam, Saipem, le eccellenze della transizione energetica, non a livello nazionale ma a livello mondiale. Quanti argomenti di discussione importanti, lei li ha toccati, Presidente. In questo i 200 miliardi del Next Generation EU sono una grande conquista, ma sono una gigantesca responsabilità. E allora è bene essere chiari sul punto, lo diciamo per il tramite della Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e a chi continua a sostenere che la posizione di Italia Viva sia una posizione legata a un qualche interesse di partecipazione alla cabina di regia. Noi non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di un aggiungi un posto a tavola, detta in un altro modo, non già al Presidente del Consiglio che ne è consapevole, ma a chi ci segue. Noi non stiamo minimamente chiedendo che nella cabina di regia ci sia anche un ministro di un colore politico più vicino al nostro. E lo dimostriamo in modo molto semplice, ricordando agli ignari passanti di quest'Aula che il 22 luglio noi avevamo chiesto una e una sola cosa, sta agli atti del Senato e sta agli atti di YouTube, per chi non guarda lo stenografico. Avevamo chiesto, di fronte ai 200 miliardi da spendere, cifra che non ricapiterà per anni, vorrei dire per decenni purtroppo, O il Parlamento fa un dibattito vero, sfidando le opposizioni, avevamo detto, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni. Perché vedete, c'è chi dice «Ma come durante la pandemia volete parlare di politica?» Eh già, perché se non parliamo di politica durante la pandemia, cosa ci stiamo a fare in Parlamento? Se davanti alla principale occasione per il futuro dei nostri figli noi non facciamo un dibattito parlamentare, con che faccia andiamo a sfidare le opposizioni? Allora, su questo punto, signor Presidente, è bene essere chiari. Noi le abbiamo chiesto il 22 luglio «Venga ad agosto in aula», forse era un po' demagogica. Andava bene anche a settembre, andava bene anche a ottobre, andava bene anche a novembre. Quello che non va bene, signor Presidente del Consiglio, e noi glielo diciamo guardandola negli occhi e in faccia, è che ci arrivi nottetempo alle due, sulla posta certificata dei ministri, un progetto di 128 pagine, che deve diventare un emendamento alla legge di bilancio, con una proposta che prevede dei manager con poteri sostitutivi rispetto al governo, e con una discussione parlamentare che non viene fatta. Perché? Perché la legge di bilancio, anche quest'anno, non verrà discussa, almeno da un ramo del Parlamento. colleghi del Partito Democratico, eravamo insieme, nello stesso partito, quando due anni fa Presidente Conte e Vicepresidente Salvini, uno di voi, uno di noi, attuale Presidente protempore della Commissione Affari Costituzionali, addirittura firmò un ricorso alla Corte Costituzionale contro la scelta del governo di non farci discutere la legge di bilancio. Ora, tra 15 giorni accade la stessa cosa. Se una cosa la fa Salvini, è sbagliata. Non sempre, spesso, ma questo è un altro discorso. Ma guardate che se la facciamo noi, ed è la stessa, è sbagliata lo stesso. Cioè noi non possiamo immaginare che di fronte a una legge di bilancio non discussa ci inseriamo, saltando e bypassando il Parlamento, tutta la principale discussione sui prossimi 200 miliardi. Lo capite che è una discussione fondamentale per le istituzioni. Ci potete dare uno, due, tre, dieci sottosegretari. Ve li lasciamo indietro. È in ballo la credibilità del Paese. È in ballo la serietà delle istituzioni. Lo capite che ora ho mai più questo. E allora, signor Presidente, 300 consulenti, quando si tagliano 300 parlamentari, è la dimostrazione, cari colleghi, che si ha un'idea della politica che io non condivido. E se sono minoranza, e se agli occhi della cittadinanza diranno «Ah, ma il consenso non si trova così, perché il consenso si trova con le dirette Facebook», non sono interessato a cambiare posizione. Ritengo che un governo non possa essere sostituito da una task force. Ritengo che un Parlamento non possa essere sostituito da una diretta Facebook. Ritengo che questa sia la battaglia di dignità che il Parlamento deve fare. Se questo è il piano Marshall del futuro, dove sono i sindaci? Se questo è il piano Marshall del futuro, dove sono gli esponenti del terzo settore? Se questo è il piano Marshall del futuro, non avrei mai immaginato di dirlo, dove sono le categorie sindacati? Non è immaginabile che di fronte a 200 miliardi, che vuol dire debito pubblico, noi rinunciamo ad essere parlamentari. È chiaro questo? Dopodiché, signor Presidente, parliamoci con chiarezza. È un problema solo di metodo? Magari. C'è qualcuno che probabilmente immagina che si possa dipicemizzare la politica. Ma c'è anche un problema di merito. Io ho letto le carte del Next Generation EU. Ma chi ha deciso che noi mettiamo 9 miliardi sulla sanità? Perché guardate che questo è un passaggio importante. Giochiamo trasparente tra di noi. Quando il mio governo, per due anni e mezzo, tre, ha messo 7 miliardi in più sulla sanità, tutti hanno detto, negli ultimi dieci mesi di talk show, che noi avevamo tagliato sulla sanità. Cioè, in due anni e mezzo abbiamo messo più 7 miliardi. È stato detto poco. Guardate, posso dirlo? La storia dice che è stato poco rispetto a quello che è successo. E noi per i prossimi 15 anni mettiamo 9 miliardi. Secondo me ce ne vuole il doppio, 18, il triplo, 27, il quadruplo, 36, un numero non a caso, visto che è l'equivalente del MES. Io voglio un luogo nel quale possa dire che la sanità non va messa in secondo piano. Vi sembra normale che sul Next Generation EU, sul turismo, ci siano 3 miliardi di euro? Ma scusate, il turismo è la voce principale della ripartenza, in particolar modo del Sud, ma non solo del Sud. Ma vi sembra normale che il Parlamento stia zitto, mentre la Germania della Merkel, che le vacanze le fa in Italia, in Alto Adige o a Ischia, la Merkel mette 35 miliardi di euro e noi mettiamo 3 miliardi. Ma chi l'ha deciso? Ma chi ha deciso che sulla scuola, dove siamo chiusi da un anno, a differenza dei francesi e dei tedeschi, noi mettiamo una paginetta striminzita mentre Macron mette 54 progetti sui giovani? Allora, signor Presidente, io gliela dico con molta chiarezza. Noi siamo pronti a discutere di tutto in un dibattito parlamentare aperto e franco. Non siamo disponibili a utilizzare la legge di bilancio come il veicolo nel quale si introduce quello che abbiamo letto sui giornali. In questo ci inserisco una vicenda che è altrettanto importante, che è quella della fondazione dei servizi segreti. Perché se è vero quello che è vero, noi non possiamo immaginare di avere una fondazione sulla quale al copasi le forze politiche, in modo pressoché unanime, dicono di no e che sui giornali leggiamo che verrà comunque inserita la legge di bilancio. E quindi, per giocare pulito e trasparente, se c'è un provvedimento che tiene la governance del Next Generation EU e se c'è un provvedimento che tiene la fondazione dei servizi segreti, noi votiamo contro. E lo diciamo con molta lealtà. Lo diciamo prima e invitiamo tutti a fermarsi finché siete in tempo. Anche perché, quando pensiamo ai servizi segreti, mi lasci dire che il 17 aprile del 2015, quando un peschereccio italiano fu bloccato dai libici e portato via, nel giro di sei ore, l'allora Presidente del Consiglio chiamò l'allora autorità delegata e mandammo la Marina Militaria a riprendere quei quattro pescatori. Domani saranno 101 giorni che 18 pescatori sono nelle mani dei libici senza che nessuno muova un dito per questi. Signor Presidente, a chi dei suoi collaboratori continua a chiamare le redazioni dei giornali per dire che noi siamo alla ricerca di qualche poltrona, le comunico che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre, due da ministro e uno da sottosegretario a sua disposizione in più. Se lei invece ha desiderio di ragionare sul serio, concretamente per il bene del Paese, spieghi ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni che questo non è un talk show, che questo non è il grande fratello perché questo è il Parlamento, questa è la politica, questo è il coraggio che Italia viva e che spero abbiano altri.